Arriva l'ok alla predisposizione degli atti necessari per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera relativa all'adesione alla zona franca per la legalità. A dare la disposizione è stato il Vice Sindaco del Comune di Licata, Angelo Cambiano, in esecuzione di quanto previsto dalla legge regionale del 2008, a seguito di quanto concordato anche con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali nell'ambito delle iniziative da programmare e portare avanti per lo sviluppo socio-economico della città. La zona franca della legalità, spiega il Vice Sindaco Cambiano, ha lo scopo di attrarre investimenti sul territorio, incentivare la crescita e rilanciare il tessuto economico dello stesso, garantendo vantaggi e sgravi fiscali a favore di quelle imprese in grado di rispettare tutti i parametri di legge e di opporsi a richieste criminali. Inoltre, attraverso la stretta sinergia e collaborazione con i ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, sarà possibile ottenere dall'Unione Europea il via libera alla defiscalizzazione dell'area compresa dalla zona franca per la legalità. La decisione è stata approvata e condivisa a pieno anche dall'assessore Giussi Marotta alla programmazione europea e partenariato, che ha espresso grande entusiasmo per le opportunità di sviluppo che si intendono dare al territorio comunale. Per aderire alla zona franca della legalità occorrerà il parere positivo del civico consesso.